Senti che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ha fame di mercanti come me, e non ce n'è. Duermo la hierba e solo amigui junto a mi, hablan di amore in piazza grande, di sus amores e problemi, solo se tristezo. Amore mio, avrei bisogno di carenza qui. Amore mio. Buonasera a tutti e tutte, mi presento, sono Andreina Baccaro, grazie per essere qui questa sera. Ricordo che siamo in diretta sul sito del Partito Democratico. Ringrazio l'organizzazione della festa per aver voluto tenere il punto su un tema come quello dei diritti umani, che in questi tempi di crisi, dovuta all'emergenza sanitaria, rischia di passare in secondo piano. Così non è, mi sembra che non sia stato così in Italia, anche sulla vicenda Zaki, in cui insomma in questi mesi, ecco nonostante l'emergenza, anche sulla scia di un'opinione pubblica, di una pressione dell'opinione pubblica molto forte, la guardia è rimasta alta. Dunque Patrick Zaki è da più di 200 giorni incarcerato senza un giusto processo e senza essersi mai potuto difendere. Oggi abbiamo avuto la notizia, finalmente ha potuto vedere la madre dopo mesi. L'Università di Bologna, il Comune di Bologna hanno fatto tanto in questi mesi e continueranno a farlo. Di Giulio Reggeni sappiamo che da quattro anni e mezzo non si conosce la verità sulla sua sorte. Speriamo insomma che le promesse, anche la strada di normalizzazione dei rapporti con l'Egitto in un certo senso possa portare a qualcosa. Stasera ne parliamo con Erasmo Palazzotto, che è il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Reggeni. Alla mia sinistra c'è Simona Lembi, consigliera comunale del Comune di Bologna, Massimiliano Smeriglio, europarlamentare del PD, Piero De Luca, deputato del PD, e la professoressa Rita Monticelli, che di Zacchi appunto è stata docente, e ci auguriamo che sarà ancora docente, ed è Presidente del Master in Studi di Genere dell'Università di Bologna. Passerei subito la parola ad Erasmo Palazzotto, chiederei ecco come sta andando avanti il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta, e se ci sono stati dei passi avanti negli ultimi mesi. Intanto grazie, grazie a voi, a chi è qui presente, a chi ci segue da casa, soprattutto a chi è qui presente da delle condizioni meteorologiche, e grazie a chi ha organizzato questo momento di riflessione al Partito Democratico, perché ritengo che in un momento come questo, e spiegherò perché, è importante tenere alta l'attenzione su una questione che riguarda non solo la storia, in questo caso di due giovani studenti, due giovani ricercatori, che hanno due storie diverse, seppur accomunate in qualche modo, da un paese, l'Egitto, ma più complessivamente sul terreno dei diritti umani, del loro destino, di quello che in qualche modo è la qualità del livello dei diritti umani, e quindi conseguentemente della civiltà, soprattutto nel Mediterraneo. Parto direttamente dalla domanda che mi è stata posta, come vanno i lavori della Commissione. La Commissione sta ripercorrendo quello che fino a qui è stato fatto, da un lavoro straordinario della Procura di Roma, che attraverso brandelli probatori, che è riuscita a strappare in assenza di una cooperazione giudiziaria da parte delle autorità egiziane, è riuscita in qualche modo a ricostruire un quadro molto avanzato e molto completo di che cosa ha fatto Giulio Reggeni. Noi siamo partiti da lì, abbiamo ricostruito, stiamo ricostruendo in questo momento le responsabilità politiche, tutto quello che è stato fatto in questi anni per favorire in qualche modo la ricerca della verità, abbiamo però un punto di partenza della nostra indagine. Giulio Reggeni è stato rapito, pedinato prima, poi rapito, verosimilmente torturato e ucciso da cinque, forse anche di più, comunque da agenti della National Security Agency egiziana. Questo è un dato di fatto che emerge in maniera ormai chiara, per cui noi abbiamo oggi una verità su che cosa è accaduto a Giulio Reggeni. Quello che non abbiamo è una verità giudiziaria, quello che non abbiamo è una giustizia per questo barbaro omicidio, quello che non abbiamo sono i lati oscuri di questa vicenda, che è il lavoro di questa commissione, che in parallelo dal punto di vista giudiziario fa la procura con cui noi facciamo molta attenzione a non sovrapporre i piani. Quello che stiamo riscontrando, ricostruendo il lavoro di questa commissione è attraverso la storia di Giulio Reggeni, che cosa è successo in questi anni nel Mediterraneo. Come un paese come l'Egitto, che usciva da una dittatura, quella di Mubarak, attraverso le primavere arabe, ripiombe in una dittatura che è peggio di quella prima. Come la qualità dei diritti umani in quel paese si è deteriorata a tal punto e di come dall'altra parte l'Europa ha reagito di fronte a questo deterioramento. Io credo che dal 2013 a oggi... Abbiamo un po' di perturbazione su di noi. Dal 2013 a oggi noi abbiamo visto in qualche modo cambiare. In un primo momento l'Europa, il Consiglio degli Affari Esteri europei pone un embargo sulle armi, è molto preoccupata nel deteriorarsi della condizione della democrazia, delle libertà civili e dei diritti umani in Egitto. Lentamente questo processo viene invece completamente invertito. E questo corrisponde anche a un approccio che l'Europa ha, e l'Italia in questo senso, nei confronti del Mediterraneo e dei partner che ci sono dall'altra parte del Mediterraneo. È come se si fosse invertito quello che storicamente era un atteggiamento di subalternità che c'era da parte di questi paesi nei confronti dei paesi occidentali ed europei. Oggi è come se fossimo noi a dipendere interamente da paesi come l'Egitto, come la Turchia, come altri paesi che in qualche modo svolgono un ruolo dall'altra parte del Mediterraneo e dove i diritti umani vengono ogni giorno declassati sempre di più. Non sono più... Ok, riprendiamo. All'inizio di questo dibattito abbiamo detto che appunto sui diritti umani non bisogna abbassare la guardia neanche in tempo di pandemia e di crisi, diciamo che neanche il maltempo ci fermerà. Quindi ridare la parola a Palazzotto in modo che velocemente possa concludere il suo ragionamento. Sì, concludo dicendo che l'Egitto oggi è la fotografia più vivida di quello che sta accadendo e che accade nel Mediterraneo, dove è in corso uno scontro tra un'idea di civiltà, di civilizzazione e un'altra, dove purtroppo si sta definendo ogni volta di più la fine di quello che abbiamo conosciuto come diritto internazionale dei popoli, come codificazione dei diritti umani. Lo abbiamo visto rispetto alla gestione delle frontiere da parte dell'Europa su quelle che sono le violazioni dei diritti umani delle persone migranti e lo vediamo con quello che è la condizione di degrado dei diritti umani dei popoli che stanno all'altra parte dell'arrivo al Mediterraneo. Quello che io credo è che l'Europa non stia facendo abbastanza, che i nostri governi non stiano facendo abbastanza per difendere quella codificazione di diritto internazionale che è stato pensato quando a vivere quelle condizioni di persone che fuggivano da guerra e disperazione erano gli europei. Perché noi parliamo di convenzioni, la convenzione di Ginevra, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino che sono state codificate sul prototipo dei cittadini europei che fuggivano dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale e dall'olocausto. E oggi che quella condizione riguarda altri popoli noi pensiamo di poterne fare a meno e di chiuderci non guardando a che cosa accade dall'altra parte. Solo che così facendo rischiamo che quella condizione lì diventi egemonica è che nel momento in cui riconosciamo che quei diritti universali non valgono per chi sta fuori dai nostri confini, per chi ha un altro passaporto o per chi ha il colore della pelle diverso dal nostro, stiamo accettando che presto o tardi quella stessa condizione arrivi anche a casa nostra. E quindi oggi serve uno scatto in più, serve nella difesa dei diritti umani come valori universali, serve anche nella solidarietà europea rispetto a una vicenda come quella Reggeni che purtroppo stiamo constatando non è stata sufficiente sicuramente e non è stata abbastanza per quello che invece la storia, la vicenda di Giulio Reggeni rappresenta perché qui lo voglio dire, Giulio Reggeni non era solo uno studente italiano, era un cittadino europeo, tale si sentiva e quindi l'Europa dovrebbe sicuramente fare di più per pretendere verità e giustizia. Grazie. Passo di diritto la parola a Massimiliano Smeriglio, eurodeputato e quindi rimbalzo la domanda quanto l'Europa sta facendo sul tema dei diritti umani e quanto nel caso Reggeni può fare, visto che appunto sembra sempre di più delinearsi un braccio di ferro tra un paese come l'Italia a cui forse serve più l'Egitto di quanto all'Egitto serva l'Italia. Sì, intanto grazie. Io penso che dal punto di vista dell'impegno delle commissioni, delle personalità che si occupano più da vicino dei diritti umani, penso a Pierfrancesco Maiorino, a Giuliano Pisapia, diciamo il lavorio del Parlamento è un lavoro importante di pressione, di costruzione di opinione pubblica, quindi da questo punto di vista c'è un lavoro che sta andando avanti, però penso che dobbiamo anche dirci la verità e la verità è che questo non è un tema che riguarda soltanto i diritti civili, riguarda la politica, cioè cosa siamo disposti a fare e cosa vogliamo diventare. L'ha detto adesso Erasmus, io penso che dentro un gigantesco e disordinato riallinamento dei poteri, delle forze nazionali, dei paesi, sta succedendo qualcosa di importante e anche di inquietante a livello mondiale. E cioè vengono avanti modelli autoritari, esplicitamente autoritari. vent'anni fa magari avrebbero fatto finta di prendere come riferimento i modelli dello Stato di diritto, della tripartizione dei poteri, della centralità della persona. Oggi esplicitamente, e anche l'Egitto fa questo, vengono avanti modelli di società in cui l'opinione pubblica non esiste, anzi viene perseguita. E il problema è che l'Egitto non è un'eccezione in questa situazione, sia nel Mediterraneo e sia se allarghiamo lo sguardo dentro, dentro e fuori i confini dell'Unione Europea. Perché questo è un problema che abbiamo anche dentro i confini dell'Unione Europea, non solo fuori dai confini. Quando noi ci dobbiamo confrontare con modelli come quello della Turchia di Erdogan, come quello appunto costruito intorno a un colpo di Stato militare in Egitto, come quello della Russia, come il modello cinese, o per stare più vicini e dirci le cose anche che ci riguardano più da vicino, quello che succede oggi nell'Ungheria di Orban o in Polonia sulla violazione costante dei diritti civili, della violazione costante della libertà e l'autonomia dei media, della stampa, della violazione costante della libera espressione sessuale delle persone, noi abbiamo di fronte dei modelli che si confrontano duramente. Io penso che c'è di più in ballo rispetto a già una vicenda tragica, due vicende tragiche, come quella di Giulio e quella di Patrick, che è ancora in corso, e che facciamo fatica a mettere a fuoco bene come Paese e come Unione. Allora, in questo senso, io penso che alcune cose si possono fare e non sono solo quelle delegate alle anime sensibili ai diritti civili, a quelli che si occupano di queste cose, come se fossero altro dalla politica estera o dalle politiche delle diplomazie occidentali. Penso che c'è una strada ed è quella indicata anche pochi giorni fa dai capigruppo di S&D, dei popolari di Renew, a Bruxelles, alla Presidente von der Leyen, cioè di procedere speditamente sul vincolo di condizionalità rispetto alla violazione dei diritti umani relativamente al bilancio, cioè ai soldi. E cioè se ci sono Paesi dentro l'Unione e fuori dall'Unione che violano costantemente i diritti umani, bene, con questi Paesi, siccome la civiltà europea non si basa sull'utilizzo, insomma, diciamo, non sono le armi quelle che possono definirci nel mondo, beh, però invece lo Stato di diritto e come collegare, diciamo, i ragionamenti su le relazioni economiche, sì, è chiaro che se noi, noi come la Francia, continuiamo a vendere armi all'Egitto, continuiamo a vendere navi, continuiamo a investire in questa direzione, beh, insomma, tutto questo ragionamento rischia di non essere particolarmente efficace. Se invece, questa è l'unica leva che l'Europa può utilizzare, perché solo sul piano della moral suation, dello scambio culturale, di civiltà, non passiamo perché hanno un'altra idea in testa. Come si fa a parlare con Erdogan? Io vorrei capire come si fa. Come si fa a parlare con uno che lascia morire una giornalista in carcere dopo più di 200 giorni di sciopero della fame o che distrugge un popolo che prova a mantenere forme di democrazia ecco come si fa. Ecco, questo è un grande tema, io non dico che è facile, ma è un grande tema che non può essere scollegato da come noi immaginiamo il rapporto col Mediterraneo, con tutto quello che sta succedendo, prendendo atto che ci sono forme statuali che non sono forme statuali perché quello che succede in Libia è davanti ai nostri occhi. Poi noi possiamo andare lì e decidere che quello è il capo di un governo, ma prima di noi sono arrivati i turchi e prima dei turchi sono arrivati i russi e quindi c'è un meccanismo di ridisegno complessivo dell'intera area mediterranea. Io penso che è questo quello che possiamo fare, su questo è fortemente impegnato il Presidente del Parlamento, Davide Sassoli, su questo c'è un impegno delle forze, diciamo così, di maggioranza, di governo al Parlamento europeo. Bisogna avere un po' più di coraggio, un po' più di coraggio, perché c'è in ballo, guardate, qualcosa che è un po' di più dei singoli drammatici casi è che se noi non riusciamo, un tempo, e c'era un dibattito fortissimo, vi ricordate, quando qualcuno parlava di esportare la democrazia con le armi, io ero tra quelli che non ero d'accordo, perché la democrazia non si esporta con le armi, quindi non si esporta la democrazia, ma neanche si importano modelli autoritari, verticali, senza opinione pubblica, senza dipartizione dei poteri, in cui le persone possono essere andate a presa a casa e fatte sparire e continuare a avere relazioni diplomatiche normali. Questa cosa, se voi vi vedete le violazioni dei diritti umani, l'Europa su questo non ha il coraggio che serve, perché sono segnalati Myanmar, non ricordo quale altro piccolo paese, questo è un tema che riguarda le relazioni con le grandi potenze del nuovo millennio, perché la Turchia è una grande potenza, l'Egitto è una potenza, la Russia è una grandissima potenza, la Cina è quella che farà il secolo, quindi dobbiamo decidere come vogliamo ingaggiare questa battaglia. L'Europa è la democrazia, l'Europa è il welfare, l'Europa è la inviolabilità dei diritti universali della persona, dell'individuo. Se noi diciamo non ingaggiamo uno scontro su questo tema, io penso che qui verrebbe meno il senso stesso dell'Unione, il senso stesso dell'Unione non viene meno se c'è o non c'è l'euro, o se c'è o non c'è un bilancio adeguato, o se riusciremo a spendere tutti i soldi del recovery plan, cosa che io spero ovviamente come paese, ma se non è in grado di fornire un modello alternativo, democratico, che non va tanto di moda, che è più lento, che è più complesso rispetto a singoli paesi magari di un miliardo di persone che vedono centralizzare il potere in un'unica persona, che diventa capo del partito, del governo, dell'esercito, oppure dell'India di Modi o tanti altri modelli che però hanno questa cifra. E siccome questo problema ce l'abbiamo anche in casa, ce l'abbiamo in casa e in Europa, con gli esempi che ho fatto prima, e ci abbiamo anche qualche apprendista stregone che prova a portare anche in Italia modelli verticali, autoritari, dentro anche questa campagna elettorale. Quindi io penso che vale la pena spendersi, non relegare questo tema e anche l'ingaggio del rapporto con l'Egitto non è un tema di diritti civili, solo, è un tema di diplomazie e di politica estera. Io penso che su questo sia il governo italiano e sia l'Europa può fare di più circa le indicazioni che davo prima, cioè connettendo le scelte economiche con quelle di civiltà. Grazie. Onorevole De Luca, abbiamo appunto, visto che abbiamo introdotto il tema degli accordi commerciali e diplomatici, il Parlamento italiano ha anche votato su un accordo che ha fatto discutere, un accordo sulla vendita di navi all'Egitto. La famiglia Reggeni naturalmente ha detto di essersi sentita tradita dall'Italia. Il Ministro della Difesa, Guerini, ha detto che insomma ci sono dei rapporti che sono imprescindibili. Lei però è anche avvocato, quindi può essere ridotto tutto a una ragione di Stato in certi casi. Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti quanti per la presenza sia dal vivo che da remoto. Il dibattito è estremamente interessante, la domanda che le pone è centrale all'interno di queste due vicende che hanno assunto un significato assolutamente simbolico. io vorrei che fosse chiaro la posizione del Partito Democratico, la posizione dei Democratici è molto netta. Solo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità e giustizia per Giulio Reggeni, liberazione subito e immediata per Patrick Zaki. Cioè, chiariamoci, perché altrimenti rischiamo di dare messaggi forvianti e sbagliati. Queste sono le coordinate che indicano la direzione di marcia dell'azione politica dei Democratici all'interno del Parlamento Italiano, delle istituzioni europee, nei rapporti col Governo. Le due vicende che purtroppo hanno tanti elementi di contiguità tra di loro, speriamo, siamo convinti, non l'esito finale come diciamo ricorda e come di auspicio anche il murale di Laica a Villada a Roma. Questa volta siamo convinti che dovrà andare in maniera differente e riuscire ad arrivare dopo che oggi abbiamo appreso la notizia della visita da parte della mamma a Patrick dopo più di 200 giorni di prigionia e per quello che abbiamo appreso di torture, di violenze subite purtroppo in carcere. Sono due vicende emblematiche perché portano all'attenzione dell'opinione pubblica, degli attivisti, della società civile, di chi fa politica, come veniva ricordato prima dai miei colleghi, il senso più profondo dell'attività politica che è quella di combattere, difendere, tutelare, proteggere ancora oggi, nel 2020, forse con ancora più forza, i diritti umani, i diritti civili, i diritti politici fondamentali, lo Stato di diritto, la democrazia, sembrano parole o concetti che noi diamo per acquisiti ma non sono acquisiti all'esterno, a pochi centinaia di chilometri dal nostro continente e, come diceva Massimiliano, purtroppo di nuovo, sempre di più, anche all'interno del nostro stesso continente perché abbiamo esempi di due stati, di due governi, quello polacco e ungherese innanzitutto, che purtroppo negli ultimi anni hanno posto in essere alcune azioni normative, hanno adottato alcune leggi che, addetta non solo del Partito Democratico ma della Commissione Europea, dell'Unione Europea, violano lo Stato di diritto e nei quei confronti sono state aperte anche procedure di infrazione, procedure legate all'articolo 7 alla violazione dello Stato di diritto perché il senso dell'Unione Europea e io lo condivido in pieno è questo innanzitutto, l'Europa nasce dalla idea dei padri fondatori De Gasperi, Schumann, Adenauer per porre rimedio agli orrori della Seconda Guerra Mondiale per far sì che quegli orrori non potessero più riproporsi all'interno del nostro continente e il risultato di questo processo che era economico, finanziario, commerciale nella impostazione iniziale ma fondato sulla logica di Schumann della dichiarazione Schumann della integrazione funzionale cioè di costruire poi nel medio-lungo periodo un'unione politica all'interno di questo nostro vecchio continente amatissimo continente questo percorso è un percorso che è un percorso fatto di successi a mio modo di vedere è riuscito certo ora è necessario un salto di qualità ulteriore però il premio Nobel per la pace vinto all'Unione Europea nel 2012 è il senso del senso più profondo che l'idea di creare un'unione politica di valori all'interno del nostro continente era un'idea giusta un'idea corretta e questo dobbiamo ricordarlo a chi ripropone modelli ancora oggi di chiusura all'interno dei confini nazionali come modello di valori come modello di percorsi e processi politici per il futuro non è quello il futuro il futuro è un rafforzamento dell'integrazione europea un rafforzamento da un punto di vista economico da un punto di vista finanziario da un punto di vista dell'integrazione delle politiche sanitarie come abbiamo visto ma anche da un punto di vista della tutela e dell'attenzione nei confronti dei diritti fondamentali dei diritti civili politici della libertà dei valori essenziali che ci accomunano accomunano le nostre comunità ai 500 milioni di cittadini europei quello è l'obiettivo più profondo l'unione o diventa punto di riferimento non solo all'interno dei propri confini ma anche e soprattutto all'esterno dei garanzia tutela difesa e protezione dei diritti umani o perde il senso della sua stessa esistenza e guardate questo ha indicato non è un qualcosa che nasce oggi come esigenza anche politica ma è l'articolo 2 che difende del trattato sull'unione europea che indica i valori costitutivi dell'integrazione europea l'articolo 3 li richiama quale linea di condotta nelle azioni esterne l'articolo 8 e il trattato sull'unione europea ci sono già norme che vengono da lontano che danno una linea guida all'unione nei rapporti con gli altri paesi del mondo e danno il senso di quella che deve essere la mission europea cioè quella di farsi portatrice sana diremmo ma davvero di darsi questa missione all'esterno di attraverso le politiche di vicinato come si chiamano consentire innanzitutto all'interno del Mediterraneo e poi nella sponda orientale di farsi diventare punto di riferimento nell'affermazione nella transizione democratica di alcune realtà di alcune comunità che ancora oggi purtroppo questa transizione non l'hanno pienamente realizzata ora il tema è questo e ovviamente le due vicende hanno colpito profondamente l'opinione pubblica perché per la brutalità la violenza anche l'aggressività dei gesti compiuti ma anche per i due sfortunati protagonisti al loro malgrado delle vicende stesse perché Giulio e Patrick sono due studenti sono due figli di una generazione del nostro tempo che si sente europea prima ancora che italiana tedesca francese o egiziana addirittura che guarda l'Europa come modello di comunità di valori perché Patrick ha vinto una borsa di studio per venire a studiare a fare questo master gemma di alta specializzazione di alta professionalità io stesso ho studiato a Bruxelles ho lavorato a Lussemburgo come Massimiliano sono stato a contatto con centinaia migliaia di ragazzi di una generazione che sente questa presenza di una comunità di valori ideali che supera i confini nazionali e per questo le due vicende hanno profondamente colpito l'opinione pubblica ed è bene che si mantenga alta l'attenzione perché sul caso Giulio Reggeni è stato fatto qualcosa la commissione inchiesta è un punto di partenza che dà un segnale la sospensione dei rapporti diplomatici tra il Parlamento italiano e il Parlamento egiziano l'apertura di un'indagine della magistratura italiana che con grande fatica sta portando avanti anche il ritiro inizialmente dell'ambasciatore Massari poi sostituito però è evidente che non si è fatto ancora abbastanza questo lo possiamo dire bisogna fare di più e questo di più che parte innanzitutto dalla richiesta del domicilio legale per i cinque indagati alla Procura di Roma per poter consentire ai nostri inquirenti di portare avanti le indagini e eventualmente un processo nei confronti dei presunti responsabili dell'assassinio del sequestro l'assassinio brutale Giulio Reggeli necessita però a mio modo di vedere su questo dissento di mantenere un canale aperto di dialogo con l'Egitto così come con le altre comunità che ancora oggi non hanno realizzato pienamente questa transizione democratica perché è evidente che noi abbiamo dinanzi a noi due strade due modelli di comportamento o interrompiamo brutalmente tutte le comunicazioni i rapporti diplomatici politici istituzionali con i paesi che non hanno ancora oggi realizzato una tutela piena di diritti umani civili politici sociali o manteniamo con grande fatica con grande difficoltà ma con la voglia di lavorare per sostenere attraverso un partenariato esigente così come viene detto spesso e contribuire come italiani come governo italiano ma come Unione Europea al passaggio alla transizione democratico io credo che questa sia la strada da seguire non chiudere completamente la porta per cui credo sia corretto a prescindere poi dalle vicende specifiche economiche e commerciali mantenere l'ambasciatore lì al Cairo e provare a mantenere un canale di comunicazione non per una ragione di connivenza o di sottomissione di debolezza ma come elemento di forza per poter lavorare e sostenere il regime insieme al regime egiziano e gli altri regimi nel Mediterraneo questa transizione democratica che è il nostro obiettivo principale io credo che è un obiettivo che noi possiamo raggiungere ci dobbiamo dare come linea di condotta essenziale prioritaria e principale nel prossimo bilancio europeo Massimiliano lo sa e chiudo ci sono risorse importanti anche per la politica di vicinato per un programma che si chiama NDSI di cooperazione esterna allo sviluppo lì dobbiamo puntare sempre più l'attenzione soprattutto come Europa l'Europa ha questo obiettivo ora c'è bisogno di più Europa per difendere più e meglio i diritti umani civili e politici nel mondo intero l'Europa è essenziale da questo punto di vista io sono previamente convinto di questo grazie bene professoressa Monticelli lei è docente di Patrick Patrick è un ragazzo brillante ha superato una selezione anche molto dura per poter partecipare a questo master e ottenere una borsa di studio e il fatto che ancora oggi dopo più di 200 giorni di detenzione lui abbia detto alla madre di essere preoccupato per i suoi studi credo insomma dica molto ecco le chiedo innanzitutto un po' di descriversi anche Patrick e poi le chiedo se anche questo simbolo che lui rappresenta perché appunto rappresenta il pensiero critico questo diritto allo studio diritto alla libertà di pensiero abbia anche influito forse il percorso che lui stava facendo se possa aver avuto un peso su queste accuse su questo essere stato preso nel mirino dal regime egiziano grazie grazie tantissimo dell'invito e della possibilità di sostenere Patrick ancora una volta grazie a tutti dell'impegno anche a nome di Gemma del master di tutte le università del consorzio e ovviamente dell'università di Bologna Patrick ha vinto appunto una borsa di studio prestigiosa le domande erano 600 per 20 posti e ha vinto dopo una selezione molto accurata quindi aveva tutte le carte in regola per questa borsa di studio ed è una delle ragioni per cui a quanto sappiamo è molto preoccupato di non poter finire questi studi studi che gli hanno la possibilità di un master professionale con una grande preparazione che riguarda non solo i diritti umani ma anche diverse discipline che vengono attraversate da un punto di vista di genere ma anche dal punto di vista delle culture minoritarie e anche delle pari opportunità Patrick quando è venuto a Bologna è arrivato l'anno scorso alla fine di agosto aveva molta paura di affrontare lo studio della letteratura perché proviene da studi ha fatto dei studi farmaceutici all'università tedesca del Cairo e quindi l'ho visto molto molto spesso sia come coordinamento che come insegnante del corso di teorie critiche e ricordo con piacere durante l'esame è stato veramente molto bravo ha accettato la sfida la letteratura apparentemente non serve a molto apparentemente in realtà Patrick ha sperimentato quanto la letteratura e ce lo diceva sempre o solo a me durante l'esame gli ha aperto nuovi mondi la possibilità di avere un pensiero critico sperimentando almeno attraverso la fantasia e l'immaginazione ma anche partendo da situazioni concrete mettendo insieme altre possibilità sperimentare possibili laterali dell'esperienza i corsi che abbiamo fatto almeno quello che ho fatto io e anche un'altra collega era su utopia su utopia e distopia che l'utopia e i diritti umani sono molto vicini ma non utopia in senso di non realizzazione l'utopia come direzione come orizzonte a cui tendere e Patrick amava molto e ama molto questo tipo di letteratura proprio perché a partire da una situazione anche le più dure le più difficili possono indicarci azioni future per appunto questo futuro migliore la possibilità di migliorare la propria la propria esperienza e anche allargare gli orizzonti critici della propria visione del mondo tutti mi chiedono com'è Patrick e mi piace dire che Patrick è un ragazzo molto studioso molto serio anche molto simpatico e molto generoso e questa generosità credo l'abbia portato anche ad impegnarsi per i diritti umani anche nel suo paese sicuramente correndo rischi e anche durante le elezioni i dibattiti che sono sempre molto forti da noi c'è sempre stato uno scambio molto fecondo molto interessante e con un grande rispetto delle idee altrui insomma che credo che sia un altro principio importante le accuse che sono state fatte a Patrick come sapete l'università non è un organismo politico ma si occupa di insegnamento di ricerca e anche di terza missione quindi delle relazioni con l'esterno ha però credo una grande visione una grande missione che è quella di favorire il pensiero critico la libertà di parola la libertà di pensiero e appunto anche il diritto civile i diritti civili legati alla persona ai generi e alle orientamenti di differenze e dando sempre priorità alla voce l'ascolto dell'altro non dell'altro da sé e anche dall'altro culturale quindi noi siamo ben consapevoli che il problema di diritti umani la questione di diritti umani è fondamentale ed è una continua negoziazione tra l'universale e anche il locale certamente non il relativismo politico-culturale soprattutto culturale ma neanche la storicità la storicità che a volte si sente quindi è una continua visione a cui forse tutti devono partecipare credo che fosse molto chiaro che la grande colpa di Patrick è quella di non essere un individualista ma di avere di sentire molto fortemente la necessità di condividere con gli altri le proprie esperienze e di sostenere sempre i deboli la condizione di precarietà nella lezione nelle lezioni che facciamo facciamo anche molta teoria teoria critica Patrick è particolarmente attento a quello che riguarda il rapporto per esempio tra la vulnerabilità delle persone la precarietà e la solidarietà credo che siano temi che abbiamo trattato tanto e che l'hanno portato a scegliere per esempio alcuni testi piuttosto che gli altri su questo discorso a partire dalla precarietà comune di una comune umanità alla solidarietà anche tra differenze l'università di Bologna a volte ci si chiede come mai l'università di Bologna ha aderito così fortemente a dare il sostegno a Patrick anzi credo che abbia iniziato a dare questo sostegno insieme alle altre università europee sempre che fanno capo al master intanto perché Patrick come si diceva prima siamo molto consapevoli che è un cittadino egiziano e quindi la sua condizione la sua posizione è molto diversa da quella che era quella di Giulio anche se appunto sono accomunati purtroppo da una esperienza almeno iniziale diversa e anche dalla comune umanità ferita e offesa siamo consapevoli che ci sono situazioni diverse che politicamente implicano una relazione diversa è una negoziazione diversa altrettanto consapevoli che Patrick non è soltanto un cittadino egiziano come si diceva prima per Giulio ma è un cittadino europeo ma lo è anche dal punto di vista dell'università è uno studente di Bologna ed è uno studente dell'università di Granada e anche di quella dove andrà in mobilità in altre università in Polonia quindi noi abbiamo sentito non soltanto il desiderio diciamo comunitario affettivo solidale verso di lui ma anche il dovere di sostenere un proprio studente il fatto poi che sia molto bravo che sia una persona rispettosa non violenta ha acuito il nostro sostegno ma sicuramente credo che il dovere sia quello di sostenere il diritto di pensiero il diritto alla parola il rispetto dei diritti umani in qualsiasi caso a volte ci si chiede perché Patrick Zaki e non altri è una domanda che sembra strana ma me la sono sentita fare perché Patrick Zaki personalmente perché sono molto affezionata a Patrick e perché è un mio studente ma non è solo quello sarebbe molto riduttivo dire così credo che la ragione principale per cui c'è stato questo impegno e c'è questo impegno è non soltanto verso Patrick che già questa è una cosa importantissima ma verso il sostegno di ideali di valori di principi sono parole abbastanza difficili da usare ne sono consapevole ma le uso apposta proprio perché sono difficili e forse un po' desuete ma ci crediamo quindi per questi valori per cui tutti dovremmo lottare come fa Patrick come ha fatto Patrick nell'associazione in cui lavorava in Egitto quindi questo secondo me è vero quello che si diceva prima c'è in ballo molto di più c'è in ballo Patrick ma ci sono istituzioni consuetudini legalizzazioni di impropie appropriazioni che feriscono l'umanità non soltanto una singola persona speriamo che questo serva a far sì che tutti ci impegniamo non soltanto per Patrick ma anche per chi è nella sua stessa condizione Patrick sappiamo eravamo in contatto quando era ancora possibile con i suoi avvocati con gli amici di Patrick e in qualche modo a volte la sorella di Patrick ha anche dato un'intervista su un giornale quindi è molto molto preoccupato di non poter tornare a studiare quindi l'appello che stiamo facendo tutti anche perché insomma siamo un po' collegamento con gli amici è quello di poter avere Patrick presto qua a casa perché possa finire i suoi studi a Bologna e riprendere la sua mobilità europea è una preoccupazione che sembra un po' così come in carcere è stato torturato all'inizio adesso sembra che stia bene quindi tutta la nostra opinione pubblica l'impegno serve serve moltissimo ci siamo posti il problema serve gli facciamo del male sì possiamo dire di sì sappiamo di per certo che gli serve che gli fa bene che l'Unione Europea sta agendo in quella direzione lo Stato pure l'Unione Università anche e nonostante tutto Patrick che è un ottimista abbiamo saputo che come si è detto oggi è seriamente preoccupato non tanto perché deve rimanere ancora in carcere anche se sappiamo che le condizioni sono molto molto dure ma perché vuole assolutamente finire i suoi studi quindi chiediamo davvero che Patrick possa essere non soltanto fatta giustizia perché ancora non c'è stato un processo ma a questo punto veramente la libertà anche dovuta alle condizioni difficili per il covid per questa situazione e che possa finire i suoi studi che così tanto ha desiderato per i quali veramente si è impegnato tantissimo dando dei risultati ottimi e per i quali è stato selezionato all'interno di studenti internazionali veramente altrettanto bravi ma insomma ha vinto questa sfida grazie a tutti per il sostegno perché sappiamo che gli sta servendo molto speriamo che possa continuare i suoi studi fuori dal carcere Simona Lembi Bologna non ha esitato un attimo anche il comune c'è da dire anche in maniera quasi inaspettata quando è circolata la notizia dell'arresto di un cittadino egiziano studente universitario e Bologna nessuno ha detto ah no un attimo però è egiziano né cittadino italiano questo un po' ecco diciamo identifica anche un po' la città di Bologna anche il comune e l'importanza del comune che non è solo un ente locale ma nel coltivare appunto principi di uguaglianza libertà di pensiero ecco anche nell'azione quotidiana che cosa il comune di Bologna ha fatto e che cosa si può ancora fare si rispondo volentieri raccontando quello che è successo a Bologna e per farlo stante che questa domanda è molto legata anche a una cosa che diceva prima la professoressa Monticelli che mi colpisce sempre relativa al alla diffusione delle iniziative pubbliche al dovere o non dovere intervenire al partecipare o meno mi ha fatto venire in mente una cosa che vorrei condividere per arrivare poi alle cose che ha fatto il comune di Bologna un anno fa un po' più di un anno fa ho avuto l'onore di presentare l'ultimo libro di Sepulveda a Bologna Sepulveda come è noto era nella guardia personale di Alliende fu arrestato insieme con tutto quel gruppo e furono tutti incarcerati e poi condannati a morte Sepulveda raccontò in quell'occasione di essere stato graziato la sera prima gli avevano detto domani tocca a te e il giorno dopo lo liberarono lo misero su un aereo e lo portarono distante dal Cile lui raccontò del suo caso relativamente all'intervento di una lettrice tedesca che aveva letto i suoi primi lavori aveva trovato il suo nome in una delle liste di coloro che erano state condannate a morte si relazionò immediatamente con Amnesty International e da lì partì questa mobilitazione internazionale che arrivò nel suo caso ad un esito fortunato allora io penso che in un'occasione come questa in cui un partito sceglie di schierarsi e in cui trovate livelli istituzionali molto diversi il Parlamento europeo il Parlamento italiano un comune l'università bisogna essere molto consapevoli del fatto che nessuno di noi pensa di con una singola azione liberare Patrick Zaki ma tutti noi sappiamo benissimo l'importanza anche degli impegni istituzionali anche più piccoli in questo caso vorrei raccontare quello di un comune il comune di Bologna per mantenere alta l'attenzione su questi casi e per un possibile esito positivo in questo caso quello che è successo a Bologna in consiglio comunale è semplicemente un passo ulteriore rispetto a quello che era successo in città pochi giorni dopo l'arresto di Patrick il 7 di febbraio sono stati gli studenti a chiedere e a invitare ad un flash mob sotto il Nettuno l'università ha fatto un gesto che io ricordo ancora perché era intervenuta in commissioni più volte con vari docenti aveva scelto l'Ateneo di aprire ogni dibattito pubblico su qualsiasi tema si intervenisse raccontando il caso dello studente Patrizaki e del fatto che si chiedesse la sua liberazione immediata sono stati gli studenti per primi poi ci sono state altre chiamate sul web sulle piazze virtuali è cresciuto un tantan per chiedere la sua liberazione la manifestazione di per rinnovare la richiesta di liberazione la prima a Bologna dopo il lockdown si è tenuta per chiedere la liberazione di Patrick e in consiglio comunale è arrivata semplicemente la rappresentanza di quel movimento insieme col sindaco ho presentato un ordine del giorno per chiedere la cittadinanza onoraria di Patrick è stato un ordine del giorno votato all'unanimità lo abbiamo fatto non solo perché Patrick è uno studente del nostro Ateneo ma perché questo mi sento di esplicitarlo in questa sede abbiamo messo nel dispositivo dell'ordine del giorno una cosa tecnica ma spero di poter raccontare perché non è affatto tecnica abbiamo esplicitato il fatto che Patrick è cittadino onorario perché il suo lavoro e il suo impegno da studente si occupa di libertà di pensiero di libertà di parola di libertà di manifestare pubblicamente la propria opinione che sono esattamente le questioni su cui noi basiamo il nostro agire quotidianamente noi che siamo nelle istituzioni ma tutti sono principi che guidano le democrazie sono principi su cui crescono le democrazie e in questo dibattito insulto è anche un po' insopportabile secondo cui ognuno dovrebbe a casa propria farsi fatti propri è stata una delle prime cose dette anche dall'Egitto non è un cittadino italiano è un nostro cittadino ce ne occupiamo noi ma chi è che dovrebbe difendere la libertà di parola la libertà di manifestare il proprio pensiero la libertà di espressione se non chi può davvero godere di quei diritti quando ho votato con l'ordine del giorno non mi sono impegnata per difendere la libertà di parola di espressione di Patrick Zaki non solo per quello ma perché difendo la mia perché quelli sono principi costituzionali inviolabili per noi sacri per garantire l'agire delle istituzioni per uscire la mattina e lavorare e fare tutte le cose che facciamo quotidianamente questa è la cosa che ha spinto il comune di Bologna siamo stati i primi a depositare l'ordine del giorno anche se il primo comune a votare la cittadinanza onoraria è stato Napoli e poi è seguito anche Milano e poi sono seguiti anche i comuni più piccoli e io confido che ci sia una scia di amministrazioni comunali che continui sulle cittadinanze onorarie perché in questo il lavoro delle istituzioni democratiche non si differenzia se siamo in comuni piccoli grandi nelle istituzioni europee o in Parlamento perché agiamo sempre sugli stessi valori come sono la libertà di opinione la libertà di manifestare la propria opinione il diritto di esprimersi e la libertà di parola quindi proseguiremo seguendo questo caso e coinvolgendo il maggior numero di amministrazioni locali nella stessa scelta fare Patrick cittadino onorario degli nostri territori grazie dunque non abbiamo molto tempo quindi chiederei prima se ci sono domande del pubblico altrimenti faccio un'altra domanda io ok se non ce ne sono chiedo ancora ad Erasmo Palazzotto la famiglia di Giulio Reggeni chiede due cose principalmente e cioè che i cinque funzionari indagati dalla procura di Roma per la sparizione e l'uccisione di Giulio Reggeni siano in qualche modo consegnati o comunque messi a disposizione dell'Italia e che l'Egitto risponda alla rogatoria che ormai del 2019 che appunto non ha avuto esito in commissione ci sono state anche delle audizioni secretate però ecco in base al lavoro della commissione è possibile che l'appello della famiglia Reggeni venga accolto abbia successo diciamo venga soddisfatto io penso che la famiglia Reggeni abbia dimostrato in questi quattro anni una dignità una compostezza un rispetto per le istituzioni al di sopra di ogni immaginazione siano diventati loro malgrado con questa loro dignità un pezzo di una colonna vertebrale del nostro paese la coscienza civile del nostro paese che infatti attorno a quella famiglia si è raccolta in quello che è stato chiamato il popolo giallo la ricerca la richiesta di verità e giustizia per Giulio Reggeni in questi anni è qualcosa che è diventata molto di più del caso di un dolore di una famiglia loro hanno usato delle parole molto chiare noi lottiamo per tutti Giulio e Giulia del mondo e del modo con cui una tragedia familiare diventa una rivendicazione politica una richiesta di civiltà e io credo che di questo tutti noi dovremmo essere grati alla famiglia Reggeni e ascoltare oggi non il grido di dolore di una famiglia ma una rivendicazione di dignità per questo paese è la prima cosa che loro hanno chiesto hanno detto noi chiediamo ci sentiamo offesi traditi dal nostro paese ma oggi quello che viene a mancare è la postura di un paese come l'Italia e aggiungo sempre io di un'Europa dei governi europei che davanti ha un comportamento oltraggioso nei confronti di quei valori di quei principi che noi qui tutti abbiamo evocato perché quando il governo egiziano agisce in maniera scientifica diversi tentativi quattro tentativi di depistaggio alcuni anche offensivi della memoria di Giulio Reggeni noi non possiamo rimanere inermi davanti a questo tentativo compreso l'ultimo dopo il riallacciamento dei rapporti tra le due procure e la consegna di cosiddetti oggetti personali che in realtà erano sono oggi le prove del secondo tentativo di depistaggio quando fecero finta di avere ucciso una banda di criminali e dare degli oggetti che non erano di Giulio Reggeni anche per inculcare il sospetto che in qualche modo Giulio Reggeni avesse diciamo delle tendenze dei gusti che non fossero esattamente connotati diciamo per la cultura egiziana e che quindi quello era uno dei motivi per cui c'era uno sfondo sessuale dietro quell'omicidio perché hanno provato anche a fare questo l'hanno fatto con azione di un depistaggio di Stato e allora davanti a questo atteggiamento da parte di un governo che oggi l'Italia ritiene un governo partner perché quando tu decidi di chiudere un accordo commerciale per la vendita di armamenti del valore complessivo di 11 miliardi di euro non stai dicendo che è un accordo commerciale stai decidendo che quel paese diventa il tuo alleato strategico nel Mediterraneo perché lo stai armando fino ai denti e quindi nel futuro le sorti del Mediterraneo tu le vorrai gestire con lui anche in chiave anti Erdogan quando fai una scelta di questa natura non è una scelta di natura economica è una scelta strategica stai dicendo che l'Egitto è un paese amico dell'Italia e con un paese amico si parla chiaramente gli si chiede qualcosa in cambio io sono d'accordo non serve rompere le relazioni a prescindere perché i canali diplomatici servono anche a costruire dei passi avanti e dei progressi però li devi usare perché tenere quei canali aperti e non usarli e usarli solo per la via commerciale o per la via militare per la via strategica e geopolitica e lasciare invece il tema dei diritti umani o la richiesta di verità e giustizia per Giulio Reggenia un fatto di mera forma istituzionale è quello che fa precipitare nel buio la civiltà europea è quello che sta accadendo oggi e che poi fa sì che anche il nostro paese e l'Europa tutta abbia sempre meno credibilità nel rivendicare il ruolo di faro dei diritti umani della libertà e della civiltà perché la perdiamo ogni giorno quando facciamo finta di niente e quando accettiamo che in nome di altri interessi o di ragioni di Stato superiori che non sempre sono economiche che riguardano la sicurezza la geopolitica i diritti umani le libertà civili e tutto quello che riguarda il nostro bagaglio di valori che qui tutti oggi noi abbiamo difeso finiscano sempre alla fine della scala delle priorità della politica questa è la sfida che noi oggi tutti abbiamo davanti se vogliamo onorare la memoria di Giulio Reggenia e se vogliamo ottenere giustizia per Giulio Reggenia o se domani vogliamo ottenere la libertà di Patrick Zaki perché quello che sta accadendo è che oggi un paese come l'Egitto se ne frega dell'Italia se ne frega dell'Europa se ne frega di dare giustizia a questo paese per la morte di uno dei suoi figli ucciso dai propri servizi di sicurezza e se ne frega delle richieste di libertà per uno studente italiano che benché di nazionalità egiziana era uno studente di un'università italiana che continua a rinviare a tenere in prigione senza nessuna motivazione perché abbiamo visto come altri casi di questo tipo sono stati risolti prima sono stati liberati prima quindi penso che da questo punto di vista ci sia anche una forma di affermazione di questo menefreghismo nei confronti della nostra cultura dei nostri valori della nostra civiltà ne dovremmo tenere conto e quindi il tema adesso non è interrompere le relazioni diplomatiche non interrompere le relazioni diplomatiche interrompere quelle commerciali e scegliere qual è la postura con cui l'Italia sta oggi nel Mediterraneo e su come si tiene la schiena dritta rispetto ad alcuni valori e si pretende da paesi che riteniamo partner strategici il rispetto in primo luogo della nostra dignità di paese e della nostra civiltà grazie bene ci siamo allungati un po' quindi ringrazio tutti voi che avete partecipato ringrazio ancora l'organizzazione della festa e appunto ci salutiamo insomma con la speranza di poter rivedere Patrick presto tra noi e che davvero si abbia verità e giustizia per Giulio Reggeni perché l'Italia non può essere un paese che appunto non difende la vita dei propri cittadini e non ottiene giustizia quando un cittadino italiano viene barbaramente ucciso da apparati dello Stato grazie una mattina mi sto svegliato grazie a tutti grazie a tutti